Dopo Pontina, Roccella Ionica, un giovane professionista, pone all'attenzione della politica la Lega e quel che la Lega può realizzare in Calabria. Un giovane dalle prospettive future, ma che vive oggi quel mondo politico che apparteneva ai nostri tempi ad un'altra gioventù. E' Carmine Bruno, eletto per volontà di Salvini e di tutti quelli che ruotano intorno alla Lega, coordinatore regionale per la Calabria dei giovani leghisti. Cosa si appresenta per te Carmine? Questo primo impatto, questo impulso con la politica a livello della nostra regione. Innanzitutto per me è un grande onore aver ricevuto questa carica. Devo dire che voglio ringraziare il segretario nazionale dei giovani e della Lega, l'onorevole Andrea Crippa, che ha riposto in me tutta la fiducia. Devo dire la verità, rispetto a quattro anni fa, io ho iniziato quattro anni fa questo progetto politico con la Lega, la situazione è cambiata davvero in modo radicale. Io mi ricordo i primi anni quando abbiamo iniziato insieme al neodeputato Domenico Furguele questo percorso. Posso dirlo in maniera, voglio usare una metafora, venivamo davvero noi visti come gli immigrati qua all'interno della nostra regione. che portavamo avanti il verbo di Matteo Salvini, però sempre convinti delle nostre idee. Ecco che giorno dopo giorno, manifestazione dopo manifestazione, gazebo dopo gazebo, domenica dopo domenica, siamo riusciti a costruire un progetto nazionale insieme al nostro leader Matteo Salvini e a riuscire a racimolare, a prendere 50.000 voti all'interno della nostra regione. Un risultato che io voglio definire storico, considerando che la Lega era un partito prettamente nordico e si presentava per la prima volta sotto forma di un partito nazionale anche nel sud Italia. Come neosegretario dei giovani sicuramente il mio compito è quello innanzitutto di portare avanti le stanze dei giovani. La Calabria, io voglio ricordarlo, purtroppo è il record negativo di disoccupazione giovanile. Tocca addirittura in alcuni punti della nostra regione una percentuale come quella del 70%, che è un record negativo non solo italiano, ma ahimè europeo. Anzi, addirittura secondo i dati ufficiali, ci sono soltanto due stati all'interno dell'Africa che hanno un dato di disoccupazione giovanile così alto. Oggi Salvini è in Calabria. Il Tempo, un quotidiano a livello nazionale, a pagina 8, dedica spazi non di poco conto per quel che riguarda la politica dei giovani, la politica della Lega. A Carmine Bruno viene dedicata un'intervista molto sentita, partecipata. Lo pone all'attenzione nazionale per quel che riguarda questo movimento giovanile, questa Lega che cerca attraverso i giovani di dare un riscatto a questa nostra terra di Calabria. Quale sensazione hai avuto nel momento in cui sei stato individuato come rappresentante dei giovani calabresi, nel momento in cui il Tempo a livello nazionale ti dedica spazio, intende dialogare con te per quel che riguarda questa spittina negativa, per quel che riguarda il movimento della Lega Giovani? Non nascondo che per me è stata una grande emozione. Il Tempo mi ha dedicato davvero un bel riquadro all'interno del suo giornale. Il senso dell'articolo era quello di far capire alla gente che non soltanto a livello senior, ma anche a livello junior, la Lega sta costruendo una vera e propria squadra. Io voglio ricordare che i giovani all'interno della Lega hanno avuto sempre un ruolo primario e non secondario, perché magari se noi andiamo a guardare la storia degli altri movimenti giovani degli altri partiti, i giovani non hanno mai avuto un ruolo di primo piano. Mentre nella Lega i giovani hanno sempre avuto un ruolo primario. Basti pensare che il nostro segretario Matteo Salvini proviene appunto dal mondo dei giovani della Lega, come anche un terzo dei parlamentari eletti nell'attuale Parlamento. Basti pensare che solo la Lega ha 17 giovani all'interno dei suoi parlamentari che provengono dal mondo giovanile, ovvero 17 ragazzi under 30. Giusto per fare un esempio pratico, l'EU, che è il movimento politico della Boldrini, è formato da 15 parlamentari. Il movimento giovanile e la Lega ha portato all'interno del Parlamento 17 parlamentari. Quindi questo ci fa capire che la Lega ha sempre dato spazio ai giovani e sicuramente lo darà in futuro, perché i giovani sono sicuramente il motore principale del nostro paese. Grazie.